La disavventura questa volta è toccata ad una giovane mamma e al suo bambino di appena 18 mesi. Sono rimasti chiusi in uno degli ascensori dell'ospedale di Sciacca ed è stato necessario scardinare la porta per farli uscire. Il guasto si è verificato all'ascensore B che si è bloccato al quarto piano facendo vivere una mezz'ora di panico alla donna che ha dovuto comunque farsi forza essendo in compagnia del piccolo. Il caso particolare ha portato alcune persone che si trovavano lì in quel momento alla decisione di scardinare la porta dell'ascensore e non attendere l'arrivo dei tecnici. Il meccanismo tra l'altro pare preveda che la segnalazione giunga direttamente ad Agrigento alla ditta che si occupa della manutenzione che poi fa intervenire i tecnici locali. Quando sono arrivati al Giovanni Paolo II questa mattina mamma e figlio Letto erano già stati liberati e poco più di un mese fa era toccato ad una donna subire lo shock di rimanere chiusa all'interno dell'ospedale seppure in compagnia di altri malcapitati. La donna però aveva dovuto far ricorso all'assistenza dei medici. Insomma nonostante gli annunci nonostante gli impegni il problema degli ascensori che si bloccano all'interno del Giovanni Paolo II di Sciacca è tutt'altro che risolto. Non è però normale né tantomeno accettabile considerato che si tratta di un ospedale che paradossale che si rischi di entrare in buone condizioni all'interno della struttura e poi sentirsi male perché bloccati all'interno di una cabina.